In questo video qual è la causa del dolore all'anca nei pazienti con l'artrosi? Quali sono i sintomi di questo disturbo? Vedremo anche gli esercizi, gli esercizi che sono fondamentali per combattere il dolore all'anca nei pazienti con l'artrosi. E ora sigla! Che cos'è l'artrosia all'anca? Si tratta della degenerazione di questa articolazione. In pratica si perde la cartilagine quindi lo strato di cartilagine che c'è tra le due ossa si assottiglia e le osse iniziano quasi a grattare tra di loro. Nelle fasi più avanzate proprio grattano tra di loro perché non c'è più la cartilagine. Poi si formano dei vecchi ossei chiamati osteofiti nel margine esterno quindi nel bordo dell'articolazione, nel bordo diciamo delle ossa proprio che fanno parte dell'articolazione e poi ci saranno nella parte superficiale dell'osso dove, diciamo sotto la cartilagine, si formeranno delle zone più dense e meno dense a livello di osso, a livello di calcio. Quindi questa è l'artrosi. Vediamo un attimo anche l'anatomia dell'anca così capiamo di cosa stiamo parlando. L'anca è un'articolazione, una grande articolazione sotto al bacino composta dalla testa del femore, il femore come ricordiamo è l'osso della coscia. La testa del femore, la parte superiore, è una parte semisferica che è inserita all'interno di una cavità del bacino chiamata acetabolo. Questa cavità è formata dalle tre ossa del bacino, ileo, ischio e puber ed è abbastanza ampia da permettere un'importante ampiezza di movimenti anche al femore. Ora, generalmente l'artrosi è bilaterale nel senso che basta un attimo di logica, facciamo gli stessi chilometri con tutte e due le gambe e quindi a meno che una persona non cammini solo con una gamba o non salti o corra solo con una gamba, più o meno l'artrosi sarà la stessa. Ci sarà quindi un uguale consumo di cartilagine e un'artrosi bilaterale, anche se è abbastanza normale vedere un'artrosi più avanzata, più grave in una rispetto all'altra. Quali sono le cause? Le cause e i fattori di rischio secondo la medicina convenzionale sono sicuramente l'età, perché si vede soprattutto negli anziani, l'ereditarietà nel senso che una persona con due genitori che soffrono di grave artrosi avrà molto probabilmente anche lei un'artrosi importante, anche l'obesità perché il peso che si scarica sulle articolazioni provoca una maggiore osura. I lavori pesanti possono provocare l'artrosi, possono comunque favorire lo sviluppo e anche il calo degli estrogeni, infatti c'è spesso un'accelerazione dell'artrosi dopo la menopausa. Cosa dire delle malformazioni anatomiche dell'anca e della gamba dell'arto inferiore? Beh, per esempio, cosa succede? Se un paziente ha il ginocchio valgo, quindi un ginocchio di questo tipo, il carico corporeo non si scarica più in maniera omogenea nell'articolazione, ma si scaricherà di più in alcune parti, in alcune zone, che quindi avranno un maggior consumo e quindi in quelle zone ci sarà una maggiore artrosi. Infine non dimentichiamo le fratture, le fratture articolari che possono causare e lo sviluppo comunque un'accelerazione dell'artrosi. Quali sono i sintomi? Quali sono invece i sintomi, quelli reali, quelli che si possono vedere di questa artrosi? Beh, sicuramente c'è un ingrossamento dell'articolazione, le ossa proprio diventano più ampie e questo si vede molto bene anche a livello del ginocchio. Persone con un'artrosi grave hanno delle ginocchia veramente importanti, veramente più larghe, più grandi. Ora, oltre a questo ci sono altri sintomi, però anche qui ci sono versioni discordanti, per esempio il crepitio. Il crepitio è quel rumore che si sente durante il movimento di un'articolazione, quindi quando l'anca si muove, quando le ossa si muovono, si sente che crac 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 crac. Questo può essere dovuto al fatto che la mancanza di cartilagine provochi uno scorrimento osso su osso, però anche qui ci sono versioni discordanti, nel senso che a volte questi scatti, questi click non sono proprio causati dall'artrosi ma possono essere anche causati da muscoli o tendini, quindi anche questo non è proprio certo. Un altro segno dell'artrosi è la riduzione dell'ampiezza di movimento. Anche qui ci sono dei pareri discordanti, perché? Perché alcuni dicono che è dovuto alle alterazioni dell'osso, alla formazione di questi vecchi, di questi osteofiti, altri dicono che non è dovuto alle alterazioni, alla degenerazione dell'osso, ma è causato dalla fibrosi. Per esempio l'autorevole professoressa e autrice Shirley Sarman dice che la fibrosi va a ridurre l'ampiezza di movimento dell'anca. Che cos'è la fibrosi in realtà? Beh, avete presente una cicatrice? Quel tessuto che si forma al posto del muscolo che non è altrettanto flessibile, quindi questo va a ridurre l'ampiezza di movimento e questa fibrosi si verificherebbe all'altezza a livello della capsula in particolare, della capsula articolare che è intorno praticamente un manicotto fibroso che sta intorno all'articolazione e diciamo la stabilizza. Quindi questa fibrosi a livello della capsula riduce l'ampiezza di movimento. Ora, si può verificare nei giovani l'artrosi? Certo, questa è causata però dal conflitto femoro acetabolare in genere. Si tratta di un disturbo caratterizzato da alterazioni o della testa del femore o dell'acetabolo che vanno a influire e possono andare a comprimere alcune parti dell'articolazione. Per esempio, se la testa del femore non è semisferica, diventa ovale, questo può andare a comprimere i tessuti intorno al bordo dell'acetabolo e può anche, si possono anche verificare delle alterazioni importanti come l'ossificazione del labbro acetabolare che in pratica è il margine esterno del bordo dell'acetabolo. Ok, passiamo adesso alla parte pratica. Vediamo come fare per ridurre questo benedetto dolore all'anca. Innanzitutto il trattamento dell'iliopsoas. L'iliopsoas si può trattare sia per togliere e per disattivare questi trigger point, ma anche per rinforzare il muscolo. Per disattivare trigger point serve il fisioterapista, non posso darvi qualche idea per la terapia fai da te a casa. Invece per il rinforzo possiamo vedere un bel esercizio. Come si fa? Allora, ci sediamo sul tappetino, stiamo abbastanza dritti con la schiena come potete, braccia dietro le spalle, mani appoggiate sul tappetino, da questa posizione solleviamo la gamba, la spostiamo leggermente di lato e torniamo indietro. Ripetiamo dieci volte, quindi su, allarghiamo leggermente e torniamo alla posizione di partenza. Di nuovo, su, allarghiamo e torniamo alla posizione di partenza. Ora, c'è anche il trattamento del diaframma e del piriforme. È un muscolo che origina dall'osso sacro, dalla seconda, terza e quarta vertebra e arriva a livello dell'apice del trocantera, quindi ve lo faccio vedere qui sul modellino anatomico, origina da questa zona e arriva qui. È una striscia proprio nella parte centrale e profonda del gluteo. Ok, vediamo invece ora gli altri esercizi. Molto bene, vediamo adesso invece il trattamento del dolore all'anca, del dolore inguinale, che però origina dalla schiena, quindi di solito accompagnato anche da un dolore alla parte inferiore della schiena ed eventualmente al fianco, che si può estendere anche alla parte anteriore della coscia, quindi il percorso del nervo crurale. A livello della schiena si può trattare innanzitutto il muscolo quadrato lombare, che è una striscia che origina dalle coste inferiori fino al bacino e questo muscolo è anche collegato all'iliopsoas, quindi andrebbe sempre trattato. Questo si può trattare a livello di trigger point, sempre per il nervo crurale si possono fare gli esercizi McKenzie. Gli esercizi McKenzie, in particolare vi faccio vedere adesso l'estensione da prono, che si fa in questo modo. sdraiati a panci giù, mani sotto le spalle, gambe leggermente divaricate e rilassate, anche la schiena e i glutei devono essere rilassati, spingiamo su solo le spalle, lasciando il bacino a contatto con il terreno, in questo modo, e ripetiamo l'esercizio dieci volte su e appoggiamo il petto e la testa. Su, torniamo giù e appoggiamo il petto. Non vi preoccupate se arrivate fin qua, va benissimo, poi man mano che lo fate arriverete sempre più su. L'importante è continuare a farlo anche diverse volte al giorno, questo esercizio è ottimo. Ovviamente potrebbe essere contraindicato ai pazienti che hanno una spondilolistesi, quindi in tal caso evitiamo. Ora cos'altro si può fare per le disfunzioni della schiena? Sicuramente si può rinforzare il grande gluteo. Per rinforzare il grande gluteo vi faccio vedere un esercizio che a me piace molto, con le mani dietro le spalle, ginocchia piegate, anche piegate, da questa posizione solleviamo il bacino, in questo modo, e giù, su e giù. Si può ripetere anche 20 volte, non è così duro. Ok, ora abbiamo risolto anche questo. Adesso facciamo un esercizio molto semplice, in piedi, e ve lo faccio vedere per ridurre la compressione del femore contro l'acetavolo. Vediamolo. Molto bene, adesso mi alzerò in piedi, mi vedrete quindi solo nella parte inferiore del corpo, così vi mostro esattamente questo esercizio, che è molto semplice. Basta avere questa cavigliera applicata al piede, potete applicare un chilo, due chili in base alla tolleranza, e camminare semplicemente. Durante ogni passo, vi faccio vedere cosa succede, camminando lentamente, la cavigliera trazione verso il basso la gamba, l'alto inferiore, e quindi allontana le ossa dell'anca, allontana il femore e il bacino. In questo modo si permette, si riduce la compressione che c'è a livello articolare e migliora anche la circolazione. Quindi questo esercizio ve lo consiglio, è molto semplice e non costa assolutamente fatica. Torniamo invece adesso agli esercizi da sdraiato per risolvere gli altri problemi che possono provocare il dolore all'anca. Molto bene, eccoci tornati pronti per fare gli esercizi di sdraiato. Adesso vediamo invece come correggere l'instabilità del bacino, l'instabilità della pelle causata da un'eccessiva rigidità dell'anca. Quindi il bacino per compensare questa rigidità si deve muovere maggiormente. Allora vediamo come fare gli stretching per i muscoli dell'anca. Da supino, mi metto in questa posizione, con le ginocchia piegate porto il ginocchio dell'anca sana verso il petto, contraggo gli addominali e stendo l'altra gamba. Torno su e ripeto il movimento dieci volte. In questo modo, su e giù, su e giù. Molto bene. Un altro esercizio che si può fare molto semplice, posizione quadrupedica. Cosa faccio? Da questa posizione vado a sedermi sui talloni, però facendo in modo che si pieghi l'anca, che si muova l'anca. Se invece a un certo punto si blocca l'anca e devo muovere la schiena, devo muovere il bacino, allora non va più bene, mi blocco e continuo a fare il movimento finché piego solo ed esclusivamente l'anca. In questo modo. Un altro esercizio, un altro esercizio che si può fare, sempre per migliorare la flessibilità dei muscoli dell'anca, da prono, consiste nella rotazione esterna. Quindi piego la gamba con l'anca dolorante e la lascio cadere verso l'interno. Porto il piede verso l'interno, in questo modo vado ad allungare i muscoli rotatori esterni dell'anca. Tra le altre terapie ci sono per esempio gli esercizi che si possono fare in piscina ma anche la bicicletta ed eventualmente l'utilizzo del bastone quando il dolore è molto forte perché altrimenti si potrebbe sovraccaricare e peggiorare la situazione. Grazie per l'attenzione. Se il video ti è piaciuto clicca sul pollice alto e condividi con tutti i tuoi amici. Lascia un commento per qualunque domanda o suggerimento, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per avere gli aggiornamenti sui prossimi video. Grazie.